Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Siricon 92 e ci vedremo oggi in un nuovo video su Warzone 2.0 Nel giorno prima dell'aggiornamento della Season 4, il Siricone vi porta colui che è stato il meta Sì, dall'inizio del gioco, ovvero da Warzone 1 nel 2019 Stiamo parlando ragazzi, come ben sapete, del fucile d'assalto primordiale, il fucile alfa Ovvero l'M4A1, accompagnato dall'MP5 del Diablo Che oltre ad essere l'attuale meta come mitraglietta, è anche lui un'arma molto forte, sin dagli albori di questo gioco Non perdiamo altro tempo ragazzi, e andiamo a vedere subito i settaggi Per l'M4 andiamo a mettere la volata X10 Avoc90 con stabilizzazione di rinculo in 0.44 e 0.14 Controllo, contraccolpo, canna high tower da 20 con stabilità rinculo in 0.27 e portata danni al massimo Caricatore da 60 colpi, ottica IMOP V4 con calibrazione da lontano al massimo E impugnatura Sakin XZ con calibrazione 0.45 stabilità rinculo in 0.19 stabilità appuntamento da fermi Per l'MP5 del Diablo, solito settaggio meta del momento, ovvero volata XRK Sandstorm con 0.18 stabilizzazione di rinculo in 0.15 e niente più Puntamento in marcia e 16.45 stabilità appuntamento da fermi Come ultimo Calcio Mir Recoil con 0.81 stabilità appuntamento in marcia e 0.85 stabilità appuntamento da fermi Ragazzi, come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate di questa classe qui sotto nei commenti Io vi ricordo di abbonarmi al canale per non perdere mai i miei video e attivare la notifica per essere sempre avvisati Noi ci vediamo domani nell'ultimo video della Season 3 e mi raccomando continuate a schiattare teste su questo gioco Tagli Obiettivo principale raggiunto, bersagli eliminati Auto marcata, richiedo ricognizione aerea Ricevuto, UAV in sorvolo sull'area, ricognizione disponibile Nemico in arrivo nell'area Richiedo ricognizione aerea Ricevuto, UAV in sorvolo sull'area UAV nemico nel settore Grazie a tutti il gas è sempre più vicino nemico marcato un avvio stile attivo supporto aereo bersaglio marcato ricevuto phoenix 2-3 in arrivo attacco imminente nessun colpo a segno siate rimasti in 10 richiedo ricognizione aerea confermato UAV operativo in zona nuova zona sicura sei tra i primi 5 porta a casa la vittoria ne erano rimasti meno di 5 la prossima volta vinceremo no 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 no